Ciao a tutti, sono sempre la persona di CorsiGraphica.it Info, oggi andiamo a vedere come creare una cartolina natalizia, anche se in realtà non è proprio così, per il semplice fatto che ho avuto seri problemi con il blog e non ho avuto tempo per creare questa cartolina, quindi visto che ho creato un mini video sui pennelli venerdì, che se non avete visto potete guardare sul mio blog, come caricare pennelli, come si creano, come si salvano e invece di utilizzare InDesign e Photoshop, oggi utilizzeremo soltanto Photoshop e creeremo un banner che possiamo utilizzare all'interno del nostro futuro sito, o se fosse per un nostro cliente ad esempio. Allora, stacco la finestra dei livelli e vi faccio vedere come sono disposti per questa cartolina natalizia, chiamiamolo banner. Questo qua è un banner natalizio, sì è un banner perché, ora vi faccio vedere, premendo Alt, Mela, I ci si apre questa finestra di dialogo che è dimensione immagini, che possiamo benissimo andare in immagini, dimensione immagine, ok? E vedremo la larghezza di 1000 e un'altezza dei 300, solitamente le misure che utilizzo io per fare dei banner, quindi la larghezza di un sito dovrebbe essere 1024, diciamo che sta dentro ai 1000 per vari motivi, per vari motivi che io non sto a spiegarvi perché non dobbiamo stare a spiegare il web, quindi faccio semplicemente larghezza 1000, altezza 300, risoluzione 72 dpi, quindi essendo 72 come già sapete va bene per i monitor ma non per la stampa. Facciamo ok, ora disabilito tutto e vi mostro per quale motivo, questo è un banner, questa struttura è comoda per cambiare molto rapidamente i colori del nostro banner natalizio. Allora sono partito creando una sfumatura dal nero al grigio, come ho fatto a farla semplicemente andando sul secchiello, tenendo premuto strumento sfumatura e qui all'interno ho il mio strumento, la mia finestra per andare a aggiungere colori, ad esempio questo lo voglio rosa o questo qua lo voglio fare viola, ok? Questi qua li avevamo già visti, ora non ci interessa, semplicemente creo questa sfumatura in questa maniera qui, ora tiriamo via, faccio così, stando su questo strumento lineare perché potrei farlo anche a radiale e quindi mi succederebbe una cosa del genere oppure potremmo utilizzare quest'altro tipo di strumento che fa l'angolare o riflessa che fa sopra e sotto, ok? Questi ve li provate, ora cancello e rimetto il mio strumento con colori neri, bianco e grigi. Questo non l'ho fatto di un colore, ad esempio, come avrei potuto fare benissimo così, per dire e utilizzare questi due colori, ma io preferisco partire da una base bianca e nero perché poi, grazie a questo strumento che abbiamo visto l'altra volta, aggiungendo tonalità e saturazione e cliccando qui sopra mi si apre la mia finestra delle regolazioni di tonalità e saturazione e posso andare a cambiare il colore di fondo come voglio. Quindi se io la volessi sul rosso, ad esempio facciamo così, ok? Questa è la cartolina, se io non la volessi di questo azzurrino, ma la volessi tipo un po' più blu o viola o rosso addirittura, mi basterà andare a cambiare questo parametro piuttosto che andare a creare un'altra sfumatura ogni volta, idem per la saturazione, se lo voglio più carico o più smorto, con la luminosità idem. Ok, poi ho aggiunto questo livello sempre di regolazione che troviamo qua, che si chiama luminosità e contrasto, anche in questo caso perché posso andare a interagire direttamente sulla luminosità e il contrasto senza dover ogni volta andare a modificare i colori. Io mi trovo molto bene utilizzando questo sistema perché ogni volta, ripeto, posso modificare come preferisco in pochissimo tempo, anche per avere un'idea migliore. Poi sono andato a creare questo livello di disturbo che l'ho creato per dare riempimento al mio banner, come ho fatto a creare un livello di disturbo e ve lo devo far vedere perché non l'ho mai fatto vedere come si crea e come si utilizza il pulsante filtri. Quindi vado a creare un nuovo livello, lo riempio del colore nero col mio secchiello. Una volta che ho creato il mio livello con il colore nero, semplicemente mi assicuro che qui sotto ci sia il bianco, vado in filtro, creo disturbo e aggiungi disturbo. Lui mi crea questo disturbo, in poche parole, mi assicuro di tenerlo in monocromatico, altrimenti mi verrebbe con tutti i colori. Faccio ok. Una volta che ho creato questo disturbo, ritorno in filtro e vado a creare un effetto di sfocatura. Quindi posso fare sfoca maggiormente, ad esempio lui mi sfoca tutto quanto, ma come faccio ad andare a non averlo così pesante? Niente, semplicemente abbassando l'opacità e andando su questo menu a tendina mettendolo moltiplica. Proviamo a vedere se otteniamo lo stesso risultato. Già andando su moltiplica al 100%, posso già notare una cosa. Che cosa noto? Noto che dove c'è il nero, lui mi fa sparire il colore, mentre dove c'è un colore un po' più chiaro mi mantiene il disturbo. Dopo il discorso del moltiplica lo andremo a vedere meglio quando vi farò vedere Babbo Natale con le sue renne, per farvi capire meglio come funziona. Poi i fiocchi di neve, come sono andato a creare i fiocchi di neve, sono andati a crearli con lo strumento pennello. Lo strumento pennello che ho fatto vedere nel mini video di venerdì, come importare i pennelli, come esportare i pennelli, come caricarli o come crearli. Quindi semplicemente premendo F5 e assicurandomi di aver premuto anche lo strumento pennello qui, strumento pennello, si apre questa finestra, la sua finestra dei pennelli e se non dovessi avere il mio pennello dei fiocchi di neve, questo è perché non li avete caricati all'interno del vostro programma Photoshop. Quindi vi guardate come ho fatto caricarvi con il mini video che avevo preparato venerdì, comunque ve lo faccio vedere semplicemente da pennelli predefiniti clicchiamo, scusate, da pennelli predefiniti clicchiamo qui in questa freccetta rivolta verso il basso e andiamo a scegliere uno di questi pennelli che io ho già qui, altrimenti dovete caricarvi il pennello dalla finestra brush, comunque questo ve l'ho già fatto vedere nel video. Quindi aggiungo un livello e vado, adesso è nero, semplicemente cambiando il colore di fondo posso aggiungere tutti i fiocchi di neve che voglio, questo molto semplicemente, e la stessa identica cosa, come ho fatto a farlo, l'ho fatta sia per le nuvole che per le decorazioni. Ora, quando andiamo a creare i nostri fiocchi di neve, alcuni risulteranno più molto, che si vedono molto, semplicemente per andare a creare un effetto come questo qua di fondo, senza complicarsi la vita, abbassiamo l'opacità, per dare quel senso di profondità, diciamo. Non abbiamo utilizzato nessun tipo di sfocatura, questa qua è la base, però otteniamo un buon risultato lo stesso. Idem vale per le nuvole. Ho usato un pennello nuvole che io ho qua, adesso vi faccio vedere, che si chiama Claude, mi faccio aggiungi, lui mi aggiungerà qui in basso le mie nuvole. Ora se vado a creare, questo è un pennello nuvola, ok? È un semplice pennello, dove è finito? Questo qui e questo qui. Semplicemente che cosa vado a fare? Anche in questo caso potrei andare a abbassare l'opacità, ma la cosa migliore in questo caso è tornare qui dentro e vediamo, così sarebbe normale con l'opacità, andando a fare sovrapponi, lui me lo va a sovrapporre a questo colore di fondo. Quindi già questi potete iniziare a guardare come funzionano, poi in un video spiegherò esattamente per quale motivo con determinati colori cambiano. Questo qua è un discorso un po' complicato, quindi ora non starò a spiegarvelo, però è giusto che voi sappiate che esistono e potete fare varie prove, come possiamo vedere, giusto perché così ci prendete un po' la mano. Quindi cosa ho fatto? Ho creato queste nuvole, ho abbassato un po' l'opacità, anche in questo caso questo l'ho lasciato normale, ad esempio che questo qua si trova di qua, questa nuvola invece di fare sovrapponi, che non si vedrebbe perché c'è molto nero, e semplicemente l'ho lasciata così perché volevo che si vedesse vicino alla luna. Quindi le nuvole le ho aggiunte semplicemente con il pennello e le decorazioni idem. Decorazioni, ripremo il mio tasto B per andare nella sezione pennello, premo F5, all'interno dei miei pennelli predefiniti, ora non so se ce l'ho ma comunque ce lo carico, così vi faccio vedere e si chiama Eat All Christmas Tree, faccio aggiungi e lui mi aggiunge queste decorazioni, ok? Ora per diminuire il pennello io potrei benissimo andare in questa finestra qui, ok? E fare dimensione pennello, oppure col tasto destro, cliccando col tasto destro sul mio banner, all'interno del mio banner, mi si apre la finestra dove posso rimpicciolire o ingrandire, quindi tasto destro del mouse. Vado a creare la mia, come possiamo vedere, faccio un livello nuovo, ok? Vado a creare i miei rami e anche in questo caso qui andiamo a vedere che cosa ho fatto su questi rami perché questi sono più neri quando in realtà sarebbero normali, io li ho pitturati quando li ho fatti tenendo il nero, ok? E andando con luce soffusa o potrei fare luce intensa o sovrapponi ad esempio, questi cambiano in base a tante cose che ripeto ora non sto a spiegarvi, però provateli, se ad esempio lo lasciamo normale potrebbe andare benissimo anche così, uno abbassa un po' l'opacità e ha già risolto il problema. Idem vale per questo qui, sempre luce soffusa, ho cambiato semplicemente il tipo di pennello, quindi premo F5, se lo voglio girare vi ricordo che posso benissimo andare a cliccare su forma punta e ruotarlo con questo strumento qui, quindi se faccio così oppure ora puntano in alto i rami, se io lo giro così puntano dall'altra parte, se faccio così puntano in basso, quindi ho la possibilità di metterli un po' come voglio. Una volta che ho fatto il mio pennello del colore nero, ho creato la mia decorazione, cosa posso andare a fare? prendiamo ad esempio questo qua, questo qua è bianco, ma in realtà se io vado su effetti, abbiamo già visto anche questo pannello, ho detto di guardarvi un po' come funzionavano tutti, semplicemente facendo sovrapposizione colore, io posso andare a creare i miei rami del colore che voglio, anche questo è molto comodo perché ogni volta io non devo andare a ricreare un pennello, a rifare la mia decorazione cambiando il colore da qui, supponiamo che io adesso faccio un esempio, decido di fare questi rami del colore viola, dovrei fare così e poi dopo un po' dico no, li volevo fare rossi, dovrei andare qui, arancione, cancellare questo livello, puoi fare così, adesso l'ho fatto sul livello sbagliato, fare così diventa un arancione, invece semplicemente andando sugli effetti, quindi tasto destro, proprietà, opzione diffusione, ci si apre la finestra di dialogo delle sue opzioni, semplicemente facendo doppio clic qui sopra e possiamo andare a modificare il colore o aggiungiamo una sfumatura volendo, vedete come è comodo, è molto comodo e soprattutto aiuta un sacco a cambiare anche direttamente il colore per vedere come sta, quindi i fiocchi di neve le abbiamo aggiunti, ci occhi anche qui, la luna, la luna, andiamo a vedere la luna che è in modalità scolora, se io la lasciassi normale, io adesso sposto Babbo, questa luna l'ho presa da Google, semplicemente andando su Google, facendo così, vado qui, scrivo google.it ad esempio, vado nella mia immagine, faccio moon, non so per dire, me ne escono varie, ne salvo una ad esempio, faccio così, salvo immagine con nome, salvo la mia immagine sulla scrivania, registra, la chiudo, io qua ho la mia luna che mi porto qui dentro, come ho fatto dopo a tirare via tutto questo semplicemente è un tondo, vado qui, seleziono il mio strumento selezionellitica, faccio la mia selezione più o meno, tasto destro, trasforma selezione, faccio leggermente più piccola, ok, faccio così, poi come avevo fatto a vedere faccio tasto destro, seleziona inversa, allora attenzione, casterizziamo il livello, tasto destro, selezione inversa, non mi sembra ci sia, come mai, non c'è, ah, selezione inversa, e qua faccio cance, e io ho la mia luna, ok, potrei benissimo mettermela qui, spostiamo questa cosa, facciamo così, guarda, la metto qui sopra, così è più facile, la metto, potrei metterla qui, ok, poi gli vado a dare scolora, giusto per ottenere questo effetto, e in più che cosa ho fatto nelle opzioni di fusione ho aggiunto un bagliore esterno, adesso ho sposto questa per far vedere questa luna, se io la tiro via, ok, per creare quel bagliore che la luna ha, quindi, scusate, 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 opzione di fusione, bagliore esterno, ok, adesso questo è fatto un po', in questo caso, questa probabilmente non ha bisogno di scolora, ok, non ha bisogno di questi tipi di opzioni, io in questo caso se dovessi modificarla, perché non tutte le immagini hanno le stesse proprietà, quindi se dovessi modificarla per farla diventare simile a quella andrei a creare probabilmente con il mio strumento di regolazione, andrei benissimo a fare una cosa del genere e modificarla finché non ho ottenuto il mio risultato, cancelliamo questa luna e arriviamo al nostro babbo natale, vediamo babbo natale che modalità moltiplica, per quale motivo? Se fosse normale sarebbe così, ok, allora vediamo la differenza che vi spiegavo prima anche con lo strumento disturbo che è in moltiplica, adesso mi metto qui, creo un livello e prendo il bianco e il nero, allora, se io adesso qui creo col mio pennello il nero e vado a dargli moltiplica, magicamente rimane nero, ok, ora torno normale, se io vado a metterlo col bianco, ok, guardiamo, quando vado a dare moltiplica, si vede soltanto il bordino nero in questo caso, adesso ve lo rifaccio perché c'era il fondo nero, allora lo faccio tutto bianco, ora non si vedrà più nulla, benissimo, questo per quale motivo? Perché il bianco viene in modalità moltiplica, viene rimosso, ok, quindi se io adesso prendo il mio pennello nero e vado qui a fare così e quando vado in moltiplica vedremo che il bianco sparisce e rimane solo il nero, ok, se io adesso questo lo sposto qui, che si vede meglio, vado a dargli normale, moltiplica, ok, questo strumento è molto importante, per quale motivo? Perché, tipo io questa carrozza con le renne le ho prese tramite, come ho fatto vedere, come con la luna, non ho fatto altro che trovarne una che fosse col fondo bianco, semplicemente quando importo un'immagine col fondo bianco, come ho fatto vedere, e vado a mettere moltiplica, lui mi rimuove il fondo bianco, quindi mi si vede soltanto la sagoma dell'immagine che io voglio, questo è molto comodo quando si fanno cose veloci, poi abbiamo il nostro Merry Christmas, che non è altro che una scritta, con scritto Merry Christmas, dove anche in questo caso io il testo l'ho fatto bianco, se io ora vado a rimuovere gli effetti sarebbe così, ma ho voluto aggiungere una sorta di sfumatura, come? Apriamo gli effetti, semplicemente ho aggiunto un'ombra esterna, per dare quel senso di sempre riempimento, e semplicemente una sfumatura, una sfumatura grigio bianco che mi ricorda un po' il Natale a me, personalmente, però avrei potuto farla benissimo, anche in un altro colore, ad esempio così, ok? Supponiamo che io decido di fare ora il mio tonalità saturazione, ad esempio rosso, per dire, potrei dire che ci sta meglio questo, ad esempio, con questi rami qua, che semplicemente se io voglio metterli anche sopra, non faccio altro che fare il tasto destro qui, fare duplica a livello, oppure semplicemente facendo mela J, poi faccio mela T, tasto destro, rifletti verticale, invio, e potrei benissimo andare a metterlo qui, per creare altro riempimento, ad esempio. Una volta che ho fatto tutto questo, anche in questo caso, queste stelline non sono altro che il frutto dei nostri pennelli, che trovate all'interno, se non ci sono, semplicemente andremo qui sopra, pennelli predefiniti, mi pare che si chiami, non mi ricordo come si chiamano, vediamo, strano che io non ce l'abbia qui, vediamo, vediamo, niente, non ce l'ho, faccio, allora, intanto faccio ripristigna pennelli, così ci metto quelli di base, ok, e poi vado qui e forse si chiama, non mi ricordo come si chiama, questo non è, forse questo, questo nemmeno, insomma, comunque è sempre un pennello con pennelli vari, eccolo qui, ok, e qui sono andato ad aggiungere le mie stelline, che sempre da pennello questo lo ruoto, giusto per, avrei potuto farne altro, se avessi il tempo di mettermi qui a crearle tutte, avrei potuto sicuramente creare un banner più accattivante e più bello, ma dal momento che il tempo è quello che è, anche per me, l'importante è che capite il tipo di struttura, che è molto importante, quindi ad esempio io ora questo decido di farlo, viola, ok, però questo Merry Christmas di questo colore non mi piace, se l'avessi fatto in un'altra maniera avrei dovuto rifare tutto il procedimento, invece semplicemente cliccando sulle opzioni dello stile livello, vado a selezionarmi il mio colore, idem per questo qua, semplicemente vado così e con quale velocità ho ricreato un banner con colori completamente differenti, è una cosa mostruosa, perché in pochissimo tempo l'ho cambiato di colore, ok, quindi una volta che abbiamo creato il nostro banner, possiamo andare qui e fare file salva col nome, ok, per photoshop e in più oggi vi faccio vedere come salvare le immagini per il web, ok, potrei fare benissimo salva col nome, puoi andare qua e scegliere il formato jpeg, ma in realtà noi facciamo così, facciamo file, salva per web e dispositivi, qual è lo shortcut? è questo qua, ok, io ora faccio lo shortcut, ci si apre questa finestra di dialogo dove ci dice predefinito, jpeg, non jpeg, se lo vogliamo qualità alta, molto alta, qui ci cambia la qualità oppure potremmo andare noi stessi a cambiarla, bassa, alta e qui ci fa vedere direttamente come si vede, si creano tutti questi artefatti tenendolo in bassa qualità, questo progressivo ottimizzata è roba che serve per il web, idem incorpora il profilo colore, qui in alto abbiamo com'è l'originale, com'è ottimizzato, potremmo vederlo anche a due immagini, comunque questa finestra la andremo a rivedere quando andremo a creare un template per il web, semplicemente facciamo salva e salviamo dove vogliamo la nostra immagine, va bene, spero che per oggi sia sufficiente, vi ho dato parecchie nozioni un po' frettolose, chiedo scusa ma oggi proprio ho pochissimo tempo, se devo essere sincero, anche perché per me siamo sotto Natale e devo andare a prendere i regali di Natale per i parenti e amici, come d'altronde farete anche voi immagino. E quindi la cosa importante è questa che io sono partito da dei semplici colori che erano il bianco e nero, ok? Io non ho creato nessun tipo di sfondo colorato, ho utilizzato gli strumenti che avevo già spiegato, che erano la tonalità e la saturazione, quindi e le regolazioni, vi ho fatto vedere i filtri che potete benissimo andare all'interno dei filtri e provare a sciappinare per vedere come funzionano, ok? Si aprono tutte queste cose qui, effetto fotocopia, ad esempio effetto fotocopia esce questa roba qui, tu le aumenti, diminuisci, ma secondo me i filtri vanno utilizzati come se fosse, avete presente i videogioco quando fate le combo, bisogna sapere quando utilizzarle, perché non è che uno fa effetto carta strappata e viene, ed esce la carta strappata, anzi non è proprio così, ad esempio schizzo, dove è? Stilizzato? Ad esempio carta da lettera, facciamo così, esce questa roba qui, ma se poi io vado ad applicare non sembra carta da lettera, bisogna creare un procedimento. Va bene, comunque io vado, vado a prendere i regali, ci vediamo sabato, mi raccomando tornate sul blog anche questa settimana se non mi salta per area di nuovo tutto il database e posterò altre informazioni utilissime, vi farò vedere come si crea una sfocatura su un'immagine, una cosa molto d'impatto secondo me per soprattutto quando si vuole mettere in rilievo un determinato dettaglio. Comunque per oggi è tutto, io vi ringrazio come al solito per quelli che mi seguono e non dimenticate di andare a scaricarvi i pennelli dalla mia area risorse pennelli per Photoshop così ve le potete scaricare e installare e ricreare una cosa del genere. Va bene, con questo è tutto, vi ringrazio, alla prossima, ciao! Grazie a tutti!